Ieri, domenica 30 ottobre 2022, la sfida degli ascolti tra le due ammiraglie Rai e Mediaset ha visto scontrarsi nel prime Time Mina Settembre, serie tv con Serena Rossi nei panni di un assistente sociale, e il film Greenland. Chi ha avuto la meglio? La quinta puntata della fiction di Rai 1 stravince grazie a 4. 241.000 spettatori pari al 24,7% di share e al secondo posto, si piazza che tempo che fa con 1. 970.000 spettatori pari ad uno share del 10,4%, che tempo che fa il tavolo 1. 76.000 spettatori e il 7,3% di share. Il film Greenland, su canale 5, si ferma al terzo posto con 1. 887.000 spettatori pari al 10,9% di share. Ascolti tv di domenica 30 ottobre, Prime Time a seguire, tra gli ascolti del Prime Time, il Gran Premio di Formula 1 su TV 8 con 1. 142.000 spettatori e uno share del 7,1%, le Iene su Italia 1 con 910.000 spettatori e il 5,2% di share NCIS Los Angeles su Rai 2 con 801.000 spettatori e uno share del 4,2%, Blue Bloods con 551.000 e il 3% di share zona bianca su Rete 4 con 645.000 spettatori e il 4,8% di share non è l'arena sulla 7 con 510.000 spettatori e il 3,8% di share il contadino cerca moglie su 9 con 304.000 spettatori pari al 1,7% di share.